Sono iniziati i lavori di recupero, restauro e rigenerazione dello stadio della Vittoria Macerata, conosciuto dai maceratesi anche con il nome Campo dei Pini. L'intervento, per un importo di quasi un milione e mezzo di euro, è interamente finanziato con risorse dal fondo Sport e Periferie, ed interesserà il campo sportivo, la struttura storico-architettonica della tribuna con gli spogliatoi e la gradinata, il parco e le mura di cinta. Al momento sono iniziati i lavori di bonifica del calcestruzzo delle gradinate con idrolavaggio, rasatura, ripristino e pulizia delle superfici imbrattate dai graffiti. Seguirà il ripristino delle mura perimetrali esterne anche delle due campate in cui si è verificato un principio di ribaltamento. Il campo sarà poi oggetto di manutenzione straordinaria, con integrale rifacimento del manto in erba sintetica e delle panchine che verranno posizionate lungo il lato delle gradinate. La novità rilevante riguarda l'allestimento del parco, che costituirà un anello completo attorno al campo sportivo, e sarà dotato di area giochi, area fitness e benessere, e area picnic. Sull'intera area verrà inoltre allestito un nuovo impianto di illuminazione e di videosorveglianza. Andrea Marchiori, assessore ai lavori pubblici di Macerata, sottolinea che dopo aver approvato il progetto esecutivo ed espletato la gara di appalto, sono stati avviati i lavori lo scorso mese di dicembre, in concomitanza con l'ultimazione della rigenerazione del campo sportivo San Giuliano del quartiere Pace, e sono state completate anche le opere di adeguamento del campo sportivo di Collevario. A dimostrazione sostiene l'assessore di quale sia l'impegno concreto dell'amministrazione nella cura e gestione degli impianti. Infine, aggiunge l'assessore allo sport Riccardo Sacchi, con i lavori allo stadio della Vittoria andiamo a recuperare e valorizzare un'area nevralgica di Macerata, simbolica non solo a livello sportivo, ma anche sociale. Grazie a tutti.